ok adesso ci sono ok scusatemi per per l'inghippo adesso adesso ci siamo allora questa serata che mi pare sia l'ultima no luca per quanto riguarda le serate per diciamo il discorso navident ma che comunque abbraccia questi vari argomenti che abbiamo trattato in questi ultimi mesi questa sera parleremo della tecnica conometrica in navigata io mi interesso mai da molti anni della parte conometrica per quanto riguarda gli impianti e la biconometria invece protesica per cui è da un po di anni che mi interesso anche a questo argomento applicato alla chirurgia navigata ora io per chi non mi conosce qualcuno non lo conosco ma comunque mi presento brevemente sono un collega odontoiatra che lavora nella provincia di treviso conegliano nella zona del prosecco lavoro in uno studio mai da 12 anni in una nuova sede insieme a mio padre mia sorella che è igienista in una nuova sede a conegliano diciamo che tra di noi siamo molto affiatati sia con i miei familiari che lavorano con me ma anche tutti il mio staff e abbiamo anche una bella vista come potete vedere per cui lo sguardo quando abbiamo bisogno di un po di relax può spaziare in prati verdi e in una zona molto piacevole come vi dicevo il nostro team ormai si sta ampliando anno dopo anno e ognuno di noi ha un po il suo compito tra le assistenti le segretarie i dottori ci tengo a dire subito che la mia storia nasce così 96 quando mi sono laureato poi ho condotto degli studi post laurea in imparato giama ho cominciato a fare subito queste queste cose cioè io avevo questi mei attrezzi del mestiere la macchina fotografica e gli specchietti e retrattori per fotografare qualunque caso chirurgico implantare protesico mi venisse sotto mano per cui ho fotografato tutto difatti la mia professione dal 96 che era così quando ho cominciato a lavorare io sono mancino questo mio padre lavoravamo insieme sono i primi interventi poi tecnologicamente le cose cambiano per cui vedete dopo nel 2010 e successivamente sono cambiate aumentando tecnologicamente tutti l'equipaggiamento all'interno dello studio e poi per passare nel 2019 poi ad altre attrezzature ancora molto più sofisticate che hanno aiutato la mia professione l'hanno migliorata l'hanno resa più sicura e l'hanno anche resa percettibilmente per i pazienti molto qualitativamente migliore per cui questa sera parleremo del cono mors e della biconometria poi associata alla chirurgia navigata il cono mors è una particolare associazione o diciamo unione tra il moncone e l'impianto in maniera tale da avere una parete pressoché parallelo con con comicità molto molto strette qui possiamo arrivare addirittura a tre gradi totali che vuol dire un grado e mezzo per lato e questo dal punto di vista il biologico e meccanico da dei grossissimi vantaggi in termini proprio di risposta biologica e anche di risposta da parte dei tessuti e anche da parte del micromovimento per quanto riguarda questa connessione e non sono io stato inventarla ma abbiamo alle spalle dei personaggi molto illustri contro piatelli marco de gidi e carlo mangano sono chi ha sviluppato ha fatto i maggiori studi riguardo di questa connessione e ha definito poi tantissime cose riguardo concetti di zero perdita ossea di pochi o nulli micromovimenti ridotti infiltrati batterici e ridotta infiammazione in particolare il professor piatelli che conosco molto bene e che e col quale conduco tantissimi studi recentemente è il diciamo l'esperto maggiore in nostra integrazione in bone regeneration in dental implantation e praticamente è l'uomo che al mondo ha circa mille pubblicazioni all'attivo ed è ancora attivo non solo in questo campo nel campo economos ma ovviamente in tantissimi campi della rigenerazione ho avuto l'onore e piacere di seguire tantissimo negli ultimi anni aggirando parecchio l'europa anche potendo parlare di questi argomenti che questa sera di cui questa sera vi parlerò allora il cono mors in realtà dicevo un angolo che più stretto è questo angolo più aumentano le proprietà e le caratteristiche biologiche e meccaniche di buona connessione allora partiamo da connessioni da 5 gradi per lato come per esempio la connessione anchilos ma possiamo arrivare ad un angolo magico molto più stretto a mio avviso che può arrivare fino a un grado e mezzo per lato per un totale di tre gradi perché dico angolo magico perché secondo me con un angolo stretto in questo modo si amplificano si migliorano le caratteristiche e radiografiche biologiche che vedremo al punto tale da farmelo usare come impianto di rotina perché non solo l'angolo importante c'è qualcuno che ha acceso l'audio per cui c'è l'angolo l'angolo molto importante ma c'è anche la superficie di contatto molto importante e poi l'anti rotazionalità che comunque è meno importante perché l'accoppiamento è nella parte del cono e poi ovviamente il tipo di spira impianti che io con i quali io collaboro negli ultimi anni mi danno una capacità di poter risolvere la gran parte quasi tutti i casi con un impianti cilindrici conici eccetera ma non mi voglio dilungare su questo più che altro voglio dire le cose che ritengo importante cioè che i fattori importanti per quanto riguarda il sigillo del cono mors sono l'angolo del cono che ne abbiamo un pochino parlato l'altezza della superficie conica questo è un altro parametro importante la tensione della vite di esseraggio che diventa sempre meno importante mano a mano che l'angolo si stringe e le tolleranze manufatturiere della vita produttrice queste sono cose che noi non possiamo calcolare ma che dobbiamo fidarci essere buone sappiamo da degli studi di zip bridge che le connessioni coniche rispetto alle connessioni flat to flat generano micro movimenti e generano più stabilità nei confronti del corpo implantare ha fatto hanno fatto parecchi studi anche qui si vede né con delle micro tac in dinamica in cui si vede benissimo che le connessioni tipo strauman questa per esempio una connessione strauman si flette e apre praticamente la connessione protesica mentre le connessioni coniche econometriche sono le più stabili quindi dal punto di vista della della stabilità del micro movimento è la migliore queste sono le flat to flat come vedete si aprono quando si flette la forza del moncone quindi a mio avviso dal punto di sì ma queste sono cose che già sappiamo ma ciò che secondo me sono i veri vantaggi della connessione con morse è che ci fanno cambiare i paradigmi della di tante cose implantari prima di tutto sono le distanze interi implantari perché le classiche distanze sono i 3 mm per il famoso cono di riassorbimento fino alla prima spira sono tutti i concetti a mio avviso antiquati che sono superate con questi tipi di impianti la stabilità dei picchi osse è senz'altro migliore abbiamo una prevenzione del riassorbimento osseo indipendente dalla posizione verticale dell'impianto per cui non non occorre che siamo maniacali nell'approfondire l'impianto cioè anche se è un millimetro due o tre o quattro sotto cristale è una questione poi di connessioni protesiche ma questo non genera dei problemi a livello osseo e questo è un grosso vantaggio e poi si può lavorare anche in condizioni di osso molto sottile nella parte vestibolare dandoci degli aspetti estetici decisamente ottimi quindi vedete anche nonostante l'impianto come in questo caso sia molto fondo non c'è una risposta ossea di perdita in questo caso dall'osso ma c'è una conservazione completa per cui credo che siano tutti i vantaggi anche nei casi di spessori ossei sottili spettori scusate gengivali sottili dove abbiamo se mettiamo l'impianto a livello cristale una perdita ossa con un impianto con amorse affondandolo abbiamo un aumento dello spessore verticale della gengiva e questo genera una costanza nel mantenimento dell'osso ma ci sono altri vantaggi come per esempio quello di dare un'estetica migliore perché abbiamo uno spessore gengivale maggiore può essere posizionato sotto cristale come vi dicevo senza senza problemi poi una stabilità meccanica problemi di svitamenti non ce ne sono e poi problemi di infiammazione non ne riscontro e quindi per me il cono morse è anche una prevenzione delle per implantiti quindi ci sono tantissimi casi che posso farvi vedere a riguardo come anche in questi casi il conservazione dell'osso in maniera incredibile che dà poi un aspetto gengivale estetico perfetto e poi casi di questo genere dove sembra che gli impianti siano perfettamente distanziati che abbiano uno spessore gengivale corretto ma che in realtà radiograficamente non lo sono sono due impianti completamente addossati l'uno all'altro nonostante succeda questo l'osso al di sopra della piattaforma viene conservato e mantenuto e questo anche dal punto di vista estetico è un punto di domanda però la realtà delle cose è che non c'è un disastro quanto avremmo se metteremo due impianti posizionati adiecenti con esagoni esterni e questi sono due anni ma ne ho tantissimi altri casi di questo tipo dove il picco osseo è mantenuto nonostante i due impianti siano molto vicini per cui ritengo che anche dal punto di vista estetico le cose sono decisamente migliori abbiamo dei canali mucosi estremamente sani con zero infiammazione abbiamo la possibilità di giocare con l'estetica per poter dare dei profili di emergenza corretti con le nostre corone che possono essere in disilicato avvitato oppure possono essere in zirconio e se sono singole oppure possono essere in biconometria come vi farò vedere anche in questo caso come vedete l'impianto è perfettamente alloggiato all'interno dell'osso ad una profondità di 23 millimetri ma anche se sono quattro non mi faccio un grosso problema perché i risultati sono costanti e mantenuti nel tempo per esempio possiamo anche apprezzare dopo un anno vedete gli svitamenti e gli riavitamenti che sono una cosa che io odio e che cerco di ridurre il più possibile in genere viene ben tollerato da questo tipo di connessione che meccanicamente se guardiamo effettivamente questa radiografia e quest'altra effettivamente questa piccola diciamo radiotrasparenza che si vede è stata poi guarita dopo un anno perché la connessione è stabile l'altro vantaggio come vi dicevo che gli spessori gengivali sottili dove la piattaforma genera poi una perdita ossea e quindi una perdita anche del tessuto gengivale può essere sfruttato a nostro vantaggio perché l'impianto viene messo sotto e non viene messo sotto per poi perdere l'osso viene messo sotto perché l'osso viene poi conservato dando questo risultato di spessore di gengiva e una biconometria di cui adesso parlerò immediatamente è una metodica che si avvale di un pilastro conico mors all'interno dell'impianto e di un pilastro conico che ha una parte conometrica di quattro gradi per lato tale da far alloggiare una cappa che poi serve per la parte protesica e qui vediamo per esempio un caso questo è il caso finito di cui vi ho parlato per cui possiamo distinguere in questo tipo di biologia di questo impianto un solco un attacco epiteliale una barriera connettivale che separa l'impianto dalla parte superficiale abbiamo l'osso come si vede nella radiografia e poi l'impianto che sta sotto e sono tutte strutture ben visibili qualora si tolga la parte protesica e si possa visualizzare la connessione anche in questo caso possiamo identificare il solco l'attacco epiteliale la connettivo diciamo di protezione il collare di connettivale attorno all'impianto e l'osso sappiate che stiamo conducendo degli studi particolari proprio su questo tipo di connessione per analizzare il tessuto l'orientamento del collagene anche a livello microscopio con delle indagini alle micro tacche o al sincrotrone ma gli aspetti sono di questo tipo cioè abbiamo una conservazione anche a distanza di anni dell'osso nonostante l'impianto sia a livello sotto cristale più o meno profondo ma dando una costanza dei risultati per cui ci sono degli svantaggi però sul cono mors che che un po li conoscete ma magari ve li elenco che così ci riflettiamo insieme cioè che le pareti più verticali sono più precisione richiede questo sistema la connessione deve essere ben pulita prima di ogni accoppiamento con l'abattment perché se ci va dentro facciamo tutto bene tutto pulito se dentro ci va residui di tessuto non va bene la sistematica orienta il clinico verso un posizionamento più parallelo degli impianti multipli ecco perché il navidente la chirurgia navigata di cui parlerò a brevissimo mi ha aiutato tantissimo perché questi impianti richiedono rigore rigore di posizionamento e rigore protesico ma si sposa benissimo con una tecnica che ti aiuta a orientare il clinico a mettere gli impianti in maniera corretta l'impronta analogica può essere difficoltosa qualora gli impianti multipli siano molto disparalleli se si lavora sul cono lo sappiamo benissimo che le impronte sono difficili se gli impianti sono molto disparalleli e poi l'accoppiamento self locking tra il moncone e l'impianto richiede una chiave di accoppiamento perché il moncone può essere intagiato nell'impianto anche da solo autonomamente senza la vite passante ma anche richiede una chiave per smontare il moncone dal dall'impianto stesso e nel caso in cui l'impianto sia molto profondo più di 2 mm richiede componentistiche protesiche profilo stretto e lungo per emergere dall'osso senza interferenze e questi sono casi per esempio che sembrano normali banali ma che in realtà l'impianto è molto profondo alcune volte lo faccio intenzionalmente per ottenere stabilità alcune volte lo faccio per una questione anche di errore mi è successo all'inizio ma nonostante questo e alcune volte anche per provare quindi non vi nascondo che c'è anche questo la biconometria come vi accennavo è una diciamo una metodica protesica che si avvale dell'utilizzo di cappe e di monconi che possono essere dritti o angolati dove i monconi dritti ci tengo a dirlo subito a me piacciono particolarmente perché sono dei monconi one piece e quindi si sfrutta la tecnica del one abatment one time one piece e questo è un altro aspetto informamentale perché il fatto di mettere un moncone che un pezzo unico sigilla ermeticamente anche il passaggio della vite protesica passate per cui abbiamo un pezzo unico e lì viene una volta avvitato viene sigillato completamente la connessione con l'impianto quindi l'impianto usate da un impianto aperto diventa un impianto perfettamente chiuso e quindi per quello cerco di utilizzare sempre monconi dritti e anche tutte le mie progettazioni al computer sono per utilizzare questi tipi di monconi il nave evidente mi aiuta tantissimo la k è importante è in grado di accoppiarsi correttamente col moncone e dare la parte protesica come vi dicevo i monconi possono essere di lunghezze variabili da 0 7 1 mezzo 3 4 e mezzo anche 6 millimetri prima di cominciare con la parte econometrica che è alta 5 e pareti da 4 gradi per lato questi 4 gradi sono strategicamente giusti secondo me perché è la giusta angolazione che serve per togliere quando serve la protesi ma anche ingaggiarla come serve quando è importante ci sono dei vantaggi nell'utilizzo della biconometria non abbiamo il cemento sia in casi singoli ma anche in in casi multipli non abbiamo buchi di avvitamento abbiamo un'estetica che adesso la vedrete semplicità delle componentistiche perché ricordate abbiamo sempre due cose moncone e k poi sopra la capa facciamo quello che vogliamo possiamo cementare il zirconio il disilicato tutto quello che volete o semplicemente un provvisorio si sfrutta la tecnica del one abbatment one time non andiamo più violare la connessione implantare che è fonda e a mio avviso una volta sigillata con il moncone non la voglio togliere più ecco perché il mio sistema di mettere subito il moncone è un sistema che anche dal punto di vista biologico secondo me ha grossi vantaggi è veloce e versatile perché si conclude un caso con rapidi rapidissimamente si possono anche sfruttare il riutilizzo di protesi preesistenti o dei casi da farvi vedere indicazioni su pre molari e molari e la morte sua nei casi frontali attenzione perché va benissimo però nel caso in cui ci sia un morsi coperti o ci siano grosse sproporzioni tra la dimensione della corona e la parte di conometria potrebbe andare qualcosa in crisi soprattutto perché ciò che porta in crisi la conometria non è il carico assiale ma il carico disassato soprattutto vestibolo linguale molto accentuato quindi è per quello che tutta la filosofia poi anche nella progettazione dei casi miei riguarda proprio la comprensione di questi concetti e i sigilli batteri eccetera li abbiamo già elencati vedete la salute dei canali mucosi vedete che la capa una volta copiata genera una salute ovunque essa sia più o meno vicino all'osso e questi sono gli aspetti estetici dove le cappe provvisorie tornano un secondo indietro per farvele vedere ci danno della guarigione dei tessuti molli che è spettacolare da poter prendere un'impronta analogica digitale quello che volete per poi mettere e inserire la una corona definitiva in questo modo in maniera estremamente semplice senza cemento senza buco bisogna attivare la conometria con un semplice colpetto e a questo punto il gioco è fatto potete verificarne che non viene assolutamente giù se non con delle manovre particolari che che fate solamente ad hoc e queste sono le radiografie di questo caso con la parte estetiche che sono direi ottime come altri sistemi implantari ma anche nel caso per esempio come in questo caso in cui l'igiene orale non è buona il paziente prendeva anche dei farmaci anti rigetto e questo in questa zona desiderava avere un molare io ho fatto una progettazione con il navident in questo caso ma perché il paziente voleva avere una doveva fare una chirurgia mini invasiva per una questione di farmaci che stava prendendo anche anticoagulanti per cui dovevo fare una chirurgia estremamente mini invasiva tant'è vero che praticamente lembo non è stato neppure elevato ed è stato posizionato un impianto anche profondo più che altro per ottenere stabilità l'ho affondato così e ho utilizzato un moncone econometrico però vedete che la guarigione poi mi dà un aspetto del canale mucoso estremamente ottimo per poter essere improntato anche dal punto di vista digitale con una cappa con la spalla ci sono varie metodiche ma non ho il tempo di dilungarmi su questo e le cappe possono avere le spalle o no e le spalle aiutano ovviamente per cementare lo zirconio di silicato e poi l'accoppiamento invece è manuale col martelletto e anche in questo caso come potete vedere in condizioni non di splendida igiene orale nonostante questo si può ottenere dei buoni risultati ricordatevi che la manutenzione di questi lavori è molto semplice in un attimo si tolgono e si rimettono quindi ho tantissimi canali mucosi da poter farvi vedere per farvi vedere la salute che questo genera ed ha un aspetto anche per il nostro campo molto molto interessante e le radiografie con il cono mors e la biconometria quindi con corone in disilicato o in zirconio cementate sulla cappa viene completato in maniera direi più più bella interessante e valida per me ma dove si diciamo il vantaggio più grande è in questi casi nei casi delle dentuglie totali perché in questo caso possiamo inserire un numero di impianti che è variabile in base alle esigenze del clinico e possiamo connettere tutti i monconi conometrici ovviamente qui già immaginate come in otto impianti debba essere importante il parallelismo e questa cosa non si ottiene a mano è molto difficile ma si può ottenere grazie alla tecnologia che al giorno d'oggi ci aiuta è ovvio che si può correggere l'angolazione per carità di dio ma se si parte con un progetto ben preciso il lavoro è veramente veramente semplice ecco perché vado avanti si possono fare dei toronto con la tecnica che io definisco clicks perché è una metodica molto semplice che prevede lo diciamo la il bloccaggio delle cappe a livello intra orale in seconda giornata dopo aver posizionato gli impianti ed è una tecnica che da passività vera perché passività intra orale e accoppiamento con o metrico con con le cappe con ovviamente dei risultati che possono essere molto molto interessante ci sono degli svantaggi però gli svantaggi sono gli spazi verticali necessari per la frizione dei manufatti se non ce li abbiamo dobbiamo optare per un avvitato difficoltà a capire se l'accoppiamento cappe moncone attivo se molto sottogengiva ecco questo aspetto importante quando se lavoriamo sottogengiva bisogna avere la diciamo la capacità sempre di capire anche se anche radiograficamente se la capa è accoppiata correttamente con l'impianto oppure con la batman oppure no il disparallelismo assolutamente va evitato per cui o intra chirurgicamente o dopo bisogna assolutamente ottenerlo e poi come vi dicevo casi anteriori di morso coperto profondo devono essere trattati con molta attenzione perché la conometria può andare in crisi in questi casi per cui non deve essere come i talebani su tutto la biconometria ma io nel 90 per cento dei di tutti i miei casi la utilizzo per cui ci sono dei casi singoli o dei casi multipli che si possono fare magari perdo due minuti su dei casi multipli tanto per farvi vedere la tecnica di cementazione delle cappe intraoralmente come in questo caso vedete su due monconi econometrici sempre dritti con un provvisorio che ha già dato un imprinting ai tessuti di guarigione e poi queste sono le cappe definitive che vengono inserite e lo zirconio caso un ponte in zirconio viene cementato come vedete si può fare in due modi il bloccaggio intraorare il primo è quello di mettere le cappe dentro il ponte e poi il ponte con il cemento ancora tenero viene messo in bocca ma la metodica invece che utilizzo io ed è più non è questa che questa è una metodica ma potrebbe esserci un problema se il tessuto in mezzo respinge l'accoppiamento delle cappe il metodo migliore col quale io mi trovo meglio invece quello di attivare le cappe in bocca e cementare il ponte scusate dico cementare ma avete capito cosa intendo bloccare il ponte questo per ottenere la passività e poi ovviamente questo è nel momento in cui viene bloccato in bocca eccolo qui viene bloccato in bocca poi si fa chiudere e si fa in questo caso attivo anche la conometria prima si fa chiudere contro che sia tutto a posto si attiva la conometria poi si attendono sette minuti che è il tempo di indurimento del cemento il quale cemento colmerà tutti i problemi di passività dei manufatti che comunque vengono dal punto di vista del laboratorio definiti e poi la rimozione di manufatti del genere di questo tipo un colpetto di martello e potete sempre andare a ispezionare e guardare i vostri i vostri lavori questo era per farvi vedere nei casi multipli e però come vi dicevo perché vi ho fatto tutto questo discorso perché il mio il mio avvicinarmi alla chirurgia dinamica navigata è è stato un naturale passo relativo alla precisione all'attenzione che bisognava avere nell'utilizzo di questi impianti perché il parallelismo diventa fondamentale tra gli impianti diventa fondamentale la progettualità protesica per cui bisogna mettere l'impianto dove ci deve andare la corona e non altrove per cui un sistema di chirurgia dinamica mi ha aiutato tantissimo perché mi dava la possibilità di essere flessibile nell'utilizzo di tutti gli strumenti che io amavo quindi gli strumenti osso densificanti gli strumenti le frese più o meno lunghe le prolunghe tutto quello che volevo senza dovermi condizionare a qualche dita implantare anche se dopo ovviamente ho le mie preferenze anch'io e in questo modo quindi attraverso l'utilizzo per chi non utilizza non è non è non ha dimestichezza con questo sistema lo dico per gli altri mi scuso se ripeterò cose che già hanno già sanno ma comunque si avvale dell'utilizzo di una telecamera che ovviamente riesce a ammettare al monitor la bocca del paziente con la tac per cui si lavora guardando il monitor e guardando il monitor si riesce a essere sicuri in ogni istante di dove si è attraverso dei dispositivi che si chiamano dispositivi tracciatori in cui viene tracciato come si vede qui dove è la mandibola in questo caso oppure il mascellare superiore attraverso un caschetto e la telecamera è in grado di riconoscere in questo modo e matchare accoppiare diciamo il file del daicom con la bocca del paziente ovviamente ci sono altre procedure che bisogna eseguire mi addentro ovviamente un pochino per chi per chi è interessato ma comunque è una metodica precisa ci sono degli articoli che già dimostrano che la precisione soprattutto angolare che è quello che a me interessa è estremamente efficace per cui si diciamo si raggiungono in precisioni al di sotto dei due gradi ed è ciò che a me interessa perché io devo stare al di sotto degli otto gradi ricordatevi che la biconometria per me è otto gradi a me non piacciono i monconi angolati di uso meno possibile a me piace il one piece per cui devo stare entro gli otto gradi non riesco a mano o meglio a mano ci riuscivo in qualche modo però così in maniera molto più precisa allora perché la chirurgia guidata dinamica associata alla biconometria ha dei vantaggi ci sono dei vantaggi che io ho definito vantaggi per il paziente e ci sono dei vantaggi anche per il clinico i vantaggi per il paziente li ho definiti io li ho divisi in generali e specifici generali perché è una chirurgia mini invasiva riduce gonfiore riduce il dolore i tempi operatori vengono ridotti perché il caso si completa con più rapidità c'è una maggiore precisione c'è un drastico miglioramento della guarigione un alto grado di accettazione e soddisfazione del paziente ed è una praticità di rimozione riposizionamento del manufatto protesico come vi ho fatto vedere e poi l'assenza di buchi per l'avvitamento quindi per il paziente e questi sono vantaggi generali la chirurgia navigata come in casi semplicissimi dove un'edentulia di questo tipo ma che è molto insidiosa con ridotti spazi operativi con la chirurgia navigata non si faccia la tac quindi si analizzino gli spazi che ci sono ma vanno sfruttati in maniera corretta e attraverso una corretta progettazione è possibile svolgere un intervento del genere in maniera completamente flapless non solo senza diciamo elevare il lembo o senza prestare troppa attenzione chirurgicamente perché è precisa ma è addirittura flapless qui è la proiezione ovviamente non è che sono vicino alla radice anche perché facendo la tac poi si vede benissimo che non sono vicino alla radice per cui case del genere vengono svolti anche in biconometria senza senza difficoltà con aspetti estetici eccetera ci sono dei vantaggi specifici anche per il paziente della chirurgia guidata dinamica perché usando la biconometria e la chirurgia guidata dinamica da un'estetica delle protesi decisamente ottima si può sfruttare quasi sempre il carico immediato e la ripresa immediata alla vita normale diciamo per i nostri pazienti ci si possono fare delle modifiche alle protese toronto pressoché illimitate sempre quando si vuole si possono riutilizzare protesi preesistenti anche fisse o mobili questo è un altro vantaggio grazie alla chirurgia navigata e poi una semplicità ridotte componentistiche protesi che direi che è un altro bellissimo vantaggio perché come vi ripeto c'è oncone e k ed è finita lì e questo caso l'abbiamo già visto quindi vado vado avanti perché sono i casi dei totali dove le protesi toronto sono fatte in gresina con un rinforzo all'interno di fibra di vetro di un tecnopolimetro di resina termo indurente multidirezionale fibra di vetro e sono rinforzati in questo in questo modo i vantaggi generali per il clinico come vi dicevo anche per il clinico ci sono dei vantaggi che quelli generali sono la pianificazione in casi semplice o di grave atrofia senza differenze esecutive non c'è dima chirurgica per cui non abbiamo mai tutti i problemi relativi alla fabbricazione della dima l'imprecisione la posizionamento non c'è flessibilità di pianificazione la con beam con correzioni anche all'ultimo minuto e questo è anche un'altra cosa importante perché se ci accorgiamo che qualcosa non è giusto all'ultimo minuto lo possiamo modificare e svolgere la chirurgia immediatamente la versatilità chirurgica con lembo senza lembo plastica ossea o meno anche questo direi che un bel bellissimo vantaggio utilizzo di qualunque fresa a noi piaccia quella del kit implantare o dei kit che più ci ci aggradano in quel momento il raffreddamento delle fresa efficace perché non c'è dima in tramezzo e il protocollo di accoppiamento della tac con l'anatomia del paziente viene fatta diciamo in bocca attraverso un tracer un tastatore ma può essere fatto anche su stl sull'impronta ottica che viene fatta al paziente e poi io ma anche un alto grado di divertimento professionale tecnologico per cui quello che io progetto nella tac come qui potete vedere è un caso in cui posiziono gli impianti che attraverso il software possono essere messi paralleli per cui poi paralleli uno ad uno o tutti insieme e quindi spostandone uno si vede anche tutti gli altri come si possono spostare quindi sono tutte facilitazioni che ci dà il software ma quello che è importante per la progettazione è visualizzare la protesi che si andrà a fare per cui avere le stl l'impronta ottica della protesi finita in maniera tale da progettare in base a quella ma avere anche un'impronta dei tessuti e qui vediamo per esempio dove sono i tessuti e dove sarà la protesi con queste linee di colori diversi e questo perché perché in questo modo possiamo anche definire il moncone che serve per cui possiamo progettare tutto dall'inizio impianto lunghezza diametro moncone se angolato non è angolato di quanto angolato se dritto dritto e di quanto è la lunghezza per cui ho tutto praticamente pianificato già prima ovviamente per l'accoppiamento quando nei casi di denturia totale non è possibile sfruttare i denti del paziente ma bisogna sfruttare delle metodiche che abbiamo migliorato perfezionato ma che abbiamo messo a punto un po di tempo fa che sono la metodica delle mini viti che sono dei punti fissi che vengono messe nei pazienti nella bocca dei pazienti un giorno due prima e poi sono codificati dal sistema in maniera tale da riconoscere esattamente il diametro la lunghezza della vite per accoppiare il file daicom con la zona e dentura del paziente in più come vedete ci sono anche dei punti di repere nelle protesi perché in questo modo riesco ad accoppiare nel file daicom anche l'estl della dell'impronta ottica cerco di spiegarmi in maniera più semplice possibile per per chi è un po neofita di questa metodica e mi scuso con chi invece è molto più avanti ma cerco di combinare un po le due cose insieme vedete nel software abbiamo tasto destro imposta parallelo a e io ogni impianto li posso impostare parallelo a qualunque altro io voglia e in questo modo io li controllo tutti che stiano all'interno della compagine ossea ma anche della compagine protesica vedete quello che facevo fino a prima di utilizzare il navident io progettavo i miei casi con o metrici a mano sfruttando un po il concetto della telecamera perché avevo la mia visione che tra l'altro ho sempre utilizzato una telecamera e vedevo nel monitor anzi io non potevo vedere ma gli altri potevano vedere quello che facevo ma anche le assistenti ne mettevo praticamente tanto per spiegare in termini clinici una dalla parte opposta e una sopra che poteva essere come in questo caso lei così oppure nella parte della testa paziente per avere le triangolazioni nello spazio aiutarmi a mettere di paralleli e questo è ciò che facevo a mano ampie scola scolamenti per vedere tutta la struttura ossea mi definivo le zone non progettate a computer per cui attraverso una fresa 3 fine che mi definiva esattamente gli spessori vedete nel mascellare superiore si scollava tutto per vederci bene ma invece le cose cambiano le cose migliorano le cose si diciamo si rendono talmente più meno traumatiche per il paziente che non si gonfiano più e non hanno più problemi perché l'incisione minima non mi interessa più vedere l'osso tanto lo so benissimo dov'è e queste sono le incisioni che faccio e questo adesso sono i casi di biconometria e di associazione al navide casi postestrattivi casi due dentoli totali vedete per esempio un casi di impianti pterigoidei senza neppure elevare il lembo questo è ciò che a mano non è possibile e non è pure neppure possibile mettere a mano un impianto pterigoideo parallelo a tutti gli altri a mano per cui immaginatevi quanto per me questa cosa è stata importante i vantaggi specifici per il clinico nella chirurgia guidata dinamica associata alla biconometria sono come ho già parlato il parallelismo impatti implantare interarcata più facile da realizzare perché computerizzato e non guidata a mano e poi un concetto di cui adesso mi addentro è l'applicazione degli impianti senza seguire il sito estrattivo nei casi siano imposti estrattivi in osso nativo adesso vediamo un attimo il perché le riduzioni di componentistiche protesi che l'ho già detto il fatto di avere la tecnica one abatment one time si mette sempre in moncone contestualmente la chirurgia e si svolge la parte protesica il giorno dopo si possono utilizzare cappe provvisorie in pic o metalliche definitive e si sfrutta il vantaggio del bloccaggio in bocca dei manufatti protesici le modifiche possono essere fatte ai manufatti e il parallelismo dei monconi però è necessario per tutte le ricostruzioni econometriche vedete questi sono i parallelismi progettati e che poi vengono realizzati anche in bocca ai nostri pazienti vado magari avanti per adentrarmi nel concetto importante ecco questo non posso risparmiarlo perché è importante e questo è un caso per esempio di una signora che aveva un gruppo anteriore dato dei tanti anni protesizzato su denti naturali che aveva una forte mobilità e anche radiograficamente aveva dei denti ormai andati quindi partiamo parliamo dal 13 al 22 però il ponte era in buono stato la signora non lo voleva cambiare e quindi questi sono concetti che noi signora non è possibile e invece con la chirurgia navigata è addirittura possibile fare questo cosa ho fatto ho progettato il caso in chirurgia navigata con impianti paralleli tra di loro ma che emergessero esattamente al di sotto della corona protesica della della paziente e questo è il caso vedete progettato con l'Stl importato delle corone del paziente e quindi praticamente ho preso un silicone che mi aiutasse nel riposizionamento del ponte e poi ho estratto i denti e poi con la chirurgia navigata che qui si vedono fasi per cui si utilizza il caschetto nel mascellare superiore io spesso utilizzo questo e poi si segue l'obiettivo in maniera tale che tutto sia preciso e si segua esattamente ciò che è pianificato dove la mia attenzione massima è sì al di stare all'interno ma soprattutto nell'angolazione come vi dicevo vedete che sto a 0506 gradi 07 quindi sono questioni che io a cui io ci tengo a cui tengo molto quando qui poi ci sono le fasi di riempimento dei siti estrattivi e il posizionamento degli impianti poi la verifica mando avanti veloce verifica di tutti gli sq per il carico immediato vedete che ho conservato un dente che mi serviva semplicemente per aiutarmi a riposizionare il ponte nella stessa posizione di prima adesso lo vedete quel dente l'ho unicamente conservato per quello però i monconi sono conometrici dritti e sono ad emergenza al di sotto della protese del paziente ho messo le cappe per diciamo per la parte protesica e con il laser ad erbio però è un'attenzione che va sempre fatta bisogna eliminare le interferenze osse per l'accoppiamento della cappa io lo faccio con laser ad erbio perché è più facile rispettare e non diciamo rovinare l'impianto il moncone ma lavorare solo sull'osso però si può smontare il moncone e farlo ecco per cui questi sono gli impianti con l'accoppiamento delle cappe e adesso vi faccio vedere poi controlli radiografici la tac eccetera eccetera e poi con la tecnica del nostro pepe sale che conosciamo benissimo mettiamo mettiamo e ribasiamo il ponte sulle cappe per cui questo è un caso che vi illustra la capacità che ha questa metodica anche di riutilizzare protesi preesistenti guardate un po il ponte rimesso su a carico immediato poi viene controllato in masticazione viene rimosso per poter rifinire tutta la parte tutta la parte del cemento con questa difficoltà guardate molto semplice ecco qua viene rifinito come sappiamo benissimo fare in studio in laboratorio come volete fino a ottenere questo aspetto del ponte e poi il caso per me è finito nel senso che non oppure neppure rifatto il ponte o mantenuto ho estratto il dente guardate quello che avevo mantenuto per la posizione a questo punto non mi serve più e ho ribasato il ponte e credo che questo sia un bel un bel vantaggio è una bella mano che ci può dare e sono casi diciamo un po limite un po al di là di quello che ci si può pensare ma che aiutano tantissimo i nostri pazienti vedete la verifica della precisione sono stato all'interno di due gradi del pianificato con il realizzato 0 73 gradi di angolo in un altro impianto e nell'altro 1,67 gradi per cui il parallelismo va benissimo e e tutto funziona in maniera in maniera e questo è il caso finito anche a distanza di tempo vi faccio vedere a sei mesi che ho l'ultima l'ultima diapositiva eccolo qua è praticamente io lavoro non l'ho più toccato quindi questo direi che è un bel e questi sono i tessuti che che sì che si hanno proprio un giorno a caso e non è che l'ho preparata per l'igiene proprio è il caso e questo è il ponte fotografato dopo sei mesi che ancora conserva ecco ci sono dei fattori da tenere in considerazione della progettazione econometrica la corona protesica gli spazi verticali troppo bassi o troppo alti l'abbiamo detto prima l'altezza del moncone quindi ci deve essere quei 5 mm di parte econometrica importante e poi oltre i 5 mm c'è se ci deve essere la parte di connessione con l'impianto la profondità quindi va gestita molto bene l'inclinazione gli alveoli strattivi e il diametro implantare sono tutte cose che ecco concludo la mia relazione per farvi vedere queste questo questo caso che secondo me fa un po riassunto di tutto ma che ci fa capire anche la potenzialità di tutto il nostro sistema e di tutti questi sistemi combinati insieme questa è una paziente che ha un grosso sorriso gengivale quindi una bestia molto difficile per noi clinici da affrontare in più c'è un diastema non si accetta per questo sorriso gengivale e per questo diastema e quindi mi richiede e guardate di profilo anche quanto prominenza che ha del mascellare superiore con delle riparti ricostruite protesiche che alla panoramica sembrano anche in stato accettabile ma che se vi faccio vedere le lastre sfido chiunque a voler conservare forse il canino magari ma gli altri con strumenti fratturati all'interno con ritrattamenti da rifare con granulomi con perdita insomma praticamente dopo una serie di ragionamenti abbiamo deciso di affrontare il caso attraverso una protesi fissa dente a dente in biconometria ovviamente riprogettando i denti in maniera corretta per cui siamo partiti dal digital smile design siamo partiti con l'arco facciale abbiamo ricostruito una parte che poteva essere esteticamente gradevole e poi ovviamente fatto tutte le mie foto e le mie valutazioni intra orali per cui il mio progetto era quello di posizionare impianti sotto cristalli di fare una plastica ossea se possibile fare anche delle socket shield nei canini per poter conservare anche la parte ossea e gengivale migliore in quei lati lì e in tutto associandolo alla biconometria e al navident ovviamente l'utilizzo delle mini viti in questo caso è stato fatto perché i denti andavano tolti in più i denti generavano dello scattering nella tac che io non accettavo dal punto di vista della precisione per cui le mini viti da me danno con precisione 0.0 per cui siamo al decimo di millimetro preciso e qui mi serve visto che è un caso post estrattivo ed è un caso anche anteriore altamente estetico per cui le mini viti è un po una prassi che ho imparato a fare praticamente in tutti i casi dove dove perdo tutti i riferimenti in questo caso avevo conservato anche i sesti perché quelli non li ho tolti quindi c'era un punto di riferimento posteriore ma non avevo punti di riferimento anteriore se non utilizzare i denti per l'accoppiamento tra il file tra la bocca e il computer che però dopo avrei dovuto togliere e quindi non avevo più la possibilità di controllare la precisione in pratica questo è il file l stl della dei denti della paziente il tecnico mi ha limato i denti della paziente virtualmente quindi questa è una limatura virtuale ed è la progettazione associata alla limatura virtuale dei denti che è interessante l'ho importata anche questa e in più ho importato la progettazione l stl dei denti della palle dei denti nuovi della paziente e ho pianificato il caso in maniera tale che l'emergenza la posizione e tutti gli impianti fossero nella posizione corretta vi facciano ecco qui c'è il sormondo di tutti e tra i file il file della gengiva e dei monconi della vecchie i denti e dei denti nuovi ma genera un po di confusione vederle tutte insieme ma era per farvi vedere che è possibile isolarli separarli combinarli è possibile giocare con tutti questi aspetti ecco questo era l'aspetto che volevo dirvi la progettazione econometrica implantare proprio in virtù del parallelismo da dare agli impianti da dei vantaggi anche dal punto di vista chirurgico perché spesso l'emergenza protesica in un dente non è la posizionamento all'interno dell'alveolo spesso è una progettazione inter interdentale quindi nei setti interdentali o delle zone dove addirittura c'è dell'osso nonostante l'emergenza del dente sia corretta non so se mi sono spiegato quindi non è una metodica che ci svantaggia ma ci avvantaggia perché mettendo gli impianti paralleli e in virtù del loro parallelismo mi fa posizionare gli impianti anche spesso dove non c'entra niente con l'alveolo estrativo e questo mi dà una ottima possibilità di generare stabilità primaria degli impianti in questo caso erano stati progettati ho messi 8 ma virtualmente poi non è detto che li metta tutti in questo caso non li ho messi tutti ma virtualmente li metto tutti quelli che servono perché se il sito poi non è adeguato non mi piace posso utilizzarne un altro per cui la progettazione econometrica come vedete ha per me questo fattore qui cioè vedere dove è il moncone del dente diciamo da progettare poi anche la corona protesica per cui io qui ho gli spessori gengivali e quindi posso progettare il moncone che mi serve o gli spessori anche protesici che mi servono per definire la corretta k la corretta lunghezza del moncone e il dente che andrà progettato e in più guardate un po il 15 il 15 non è dentro l'alveolo estrattivo per cui è quello che vi dicevo cercavo di spiegarvi prima il 15 come vediamo qua sopra è addirittura il nostro completamente nativo però l'emergenza è sul 15 per cui un parallelismo distribuito in questo modo ci dà anche la possibilità come esempio il 12 o altri impianti di poter sfruttare delle zone di osse nativo a tutto vantaggio del carico immediato e credo che questo sia un grosso un grosso vantaggio ovviamente attenzione va fatta nell'angolazione dei nostri impianti per poter stare all'interno della compagine ossea e poi si va alla chirurgia questo caso è stato svolto anche in sede di un corso qua in studio per cui ho alcune cose le ho riprese non proprio esattamente come come avrei voluto ma comunque i vantaggi sono la tecnica del one abatment one time con il moncone dritto one piece la progettazione parallela implantare svincolata dall'alveolo adatta spesso per il carico immediato è un'inclinazione implantare anche anatomica perché il carico protesico va benissimo fatto in asse con l'impianto per cui direi che va tutto bene l'implonte l'impronta è semplificata perché tutto parallelo e quindi le procedure protesiche sono perfettamente adatta adatte e poi dai tessuti gengivali che vi ho fatto vedere io vi ho fatto per farvi capire la differenza anche ho fatto nello stesso caso una progettazione tradizionale alveolare sempre potesite minicamente guidata con il navide in cui qui si apprezza poco e qui pure si apprezza poco se non l'emergenza perfettamente all'interno della protesi ma quello che cambia vedete è non più il parallelismo tra gli impianti e se non lo vediamo in una sezione trans alveolare che possiamo vedere vediamo che tutti gli impianti mi cascano dentro i siti estrattivi con grandi difficoltà nel generarmi una stabilità primaria degli impianti e anche quindi per fare il carico immediato oltre che dover rigenerare o pensare a come riempire il gap estrattivo e questa è la progettazione trans alveolare tradizionale con il navident che avrei potuto fare dove però dopo avrei avuto i problemi nel parallelizzare tutti gli impianti tra di loro questo è un altro problema perché intra chirurgicamente un conto a parallelizzarne 12 un conto è 8 parallelizzarmi parallelizzarli e non in laboratorio quindi è questo un altro motivo per cui l'impianto per me parallelo è fondamentale vado avanti veloci perché questo concetto lo avete capito in realtà adesso io riprendo riprendo la mia esecuzione dove la progettazione tradizionale non mi fa utilizzare il one abatment one time perché devo usare dei monconi angolati neanche il moncone dritto e poi non è una progettazione parallela e soprattutto è all'interno degli alveoli per cui ho barrato tutto ciò che per me è uno svantaggio una progettazione non conometrica degli impianti vi faccio vedere rapidamente la chirurgia tanto per per farvela vedere di questo caso quindi riprendo il concetto di prima il parallelismo di tutti gli impianti andiamo avanti 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 ovviamente ho avuto delle difficoltà perché questo era un caso difficile dove l'osso era pure molto stretto per cui in in due casi non ho in un caso non ha posizzato l'impianto dove volevo e questo è il provvisorio che il tecnico mi ha fatto eccolo qui che avrei dovuto utilizzare per la ribasatura del caso questo è una nota smontato tutti e tutti tutti i lavori questa è la socket shield nei canini che è stata eseguita per poter conservare la compagine ossa in maniera ma migliore e questo è sono tutte fotografie per farvi vedere le metodiche che serve per l'accoppiamento e per la corretta visualizzazione a monitor della bocca del paziente si sfruta il show tracker b che è un tracker del macellare superiore ma anche inferiore va avvitato e questo è il 3 se il tastatore che serve calibrarlo per poter codificare le mini viti codificando le mini viti il navident assume la completa precisione e controllo di ciò che state facendo all'interno della bocca quindi qui sto codificando le mini viti poi viene fatta la corretta calibrazione dell'asse del manipolo e poi vengono calibrate le frese che ripeto saranno le frese che volete voi senza alcun problema poi la posizione di lavoro è questa quindi il manipolo viene sorretto da una mano ma viene anche controllato dall'altra quindi la posizione di lavoro è attraverso due mani che potete tranquillamente fare perché non vi serve ritrarre nulla perché ci vedete nel monitor e poi viene posizionato gli impianti che vengono pure calibrati nella loro lunghezza e diametro in maniera tale da essere posizionati in tutte le zone necessarie come voi vedete qui ci sono due impianti dove utilizzato dei monconi angolati perché la posizione dell'impianto non mi è riuscita esattamente come volevo che ho dovuto angolarli e in più questo impianto e l'ho messo a mano perché non avevo pianificato in quel posto lì non avevo la pianificazione fatta eccetera eccetera per una serie di motivi l'ho messo a mano ho sbagliato ma comunque l'ho corretto perché essendo uno angolato diversamente ho potuto correggerlo quindi è questo ed è in questa zona qui poi il ponte è stato ribasato come potete vedere sulle sui monconi sulle cappe metalliche e la cappa in pic e questo è il caso una volta ribasato questo è blu m ossigeno attivo che serve per far guarire il tessuto in maniera corretta ecco vediamo radiograficamente si vede subito qual è l'impianto a mano e non ve lo devo neanche dire ma a mano nonostante si cerchi di fare le cose bene che non è parallelo ed è quell'impianto lì per cui viene corretto poi con la capa nonostante questo il caso è stato finito e completato in maniera corretta con la tac di controllo eccetera eccetera vado avanti veloce perché voglio farvi vedere l'ultima fotografia alla rimozione dei punti che è questa per cui la paziente è questa non ho usato photoshop nel nulla per farvi vedere che non ci sono ematome non ci sono diciamo guarigione anomale la paziente è molto felice perché abbiamo combinato l'allineamento dei denti abbiamo ridotto l'esposizione gengivale e abbiamo creato il carico immediato in conometria che a me da particolare soddisfazione io con questo voglio finire perché avrei tante altre cose ma non ho il tempo materiale di poter mi rendo conto di non avere il tempo materiale e quindi ringrazio tutti per l'attenzione e magari sarà la volta un'altra volta che posso farvi vedere vedere tante altre cose e scusatemi se sono un attimo in ritardo Luca grazie chiaramente per la presentazione per le case che hai condiviso con noi io aprirei semplicemente chiederei se le persone che ci hanno ascoltato che ti hanno ascoltato hanno qualche domanda specifica da farti e quindi lascerei diciamo l'ambito alle domande e alle osservazioni visione così e tolgo la condivisione ecco esatto esatto così quando che tu comunque avevi accennato il fatto che volevi condividere con noi il caso che tratterai domani quindi magari quella che anzi qualche minuto magari potrebbe essere una possibilità eccolo eccolo qua anzi ve lo faccio vedere subito così magari vi faccio vedere dove mi troverete domani eccolo qua adesso sono direttamente collegato col navident ecco il computer del navident e quindi vi faccio vedere un caso che comunque è similissimo a quello a quello che avete visto è un caso di del macellare superiore in cui faccio vedere in questo caso gli stl eccoli qua vedete qui ci sono due stl possiamo magari vederli ingranditi qui c'è l stl blu che è quello della vecchia dentatura della paziente e l stl giallo arancione cos'è dell'invece della pianificazione e del progetto vediamo in particolare abbiamo la possibilità attraverso il navide di poter isolare l'uno dall'altro per cui magari vi faccio vedere solo quello eccolo qua quindi questo è il progetto che è stato importato dentro il navidente delle stl della nuova dentatura che avrà la paziente e e se vi faccio vedere la progettazione in base al vecchio stl vecchio stl cioè la dentatura della paziente vi faccio vedere questo eccolo qua possiamo ingrandirlo quindi questa è la dentatura della paziente ci sono le mini viti che mi servono per la la mia diciamo precisione e questa è tutta la pianificazione degli impianti è un caso che però non verrà fatto dente a dente ma verrà gestito in maniera tipo toronto bridge proprio perché il grado adesso non ho le foto le ho ma non le ho fatte da farvi vedere ma il caso era diciamo con un forte riassolvimento osseo a livello dei denti per cui non era possibile gestire tant'è vero che vedete la progettazione mia implantare quanto profonda è a livello dei siti estrattivi o delle zone dove viene pianificato e anche qui se scorriamo nell'impianto verranno posizionati anche due impianti in zona pterigoidea che si svolgono in maniera e quali possiamo vedere anche in questa immagine un po ingrandita in maniera flapless totale quindi non eleverò alcun lembo e sono qua uno a destra e una sinistra per cui in quella zona non eleverò il lembo saranno paralleli perché li ho già pianificati paralleli tutti tra di loro sono otto però come sempre in genere vario tra 6 e 8 come posizionamento di andare anche perché la conometria come vi dicevo non ama i cantilever per cui se posso distribuire gli impianti in tutta l'arcata sono sempre molto più contento preferisco e qui c'è un altro concetto che mi piacerebbe profondi preferisco aumentare il numero di impianti e fare una protesi meno costosa e più flessibile piuttosto che mettere pochi impianti e avere una protesi molto costosa con il rischio che se qualche impianto fallisca debba buttarvi a tutto ecco non so se ci sono altre domande a riguardo luca era questo che volevi vedere no ci aveva anticipato esatto e cioè mi sembra ecco la domanda che mi viene da farti ma appunto la domanda tecnica è legata appunto alla sua posizione cioè abbiamo visto il caso l'ultimo caso dove ci hai fatto vedere no la costruzione di più stl no attraverso evidente se ci puoi un attimo rispiegare un attimo come fai per questa informazione può essere generalmente anche utile a chi utilizza il navide si praticamente allora potrei magari aprire anche questo no aprire il navi dentro per cui magari lì lo spiego ecco praticamente in questo in questa schermata c'è adesso c'è già la stl ma se noi lo togliamo possiamo visualizzare i daicom della paziente dopodiché per quanto riguarda l'importazione della stl si sfrutta qui scansioni di superficie e qui ci si apre una schermata dove praticamente ci si chiede ci si chiede come accoppiare un'impronta ottica che viene importata nella schermata sotto e questa è un'impronta ottica fatta con uno scanner intraorale e in questo caso io avevo il grosso vantaggio di avere nel daicom le mini viti che ci sono in bocca per cui ho semplicemente accoppiato diciamo riconoscendo il centro delle mini video mini vite quel punto diventa precisissimo e qui si vede esattamente anche la schermata dove viene accoppiato dai con con il file del del stl però se io voglio importarmi come in questo caso invece il l'altro file cioè quello della quello quello della progettazione diciamo invece definitiva che non è questo ma è l'altro vediamo un po se riesco a farvelo vedere comunque con lo stessa metodica praticamente no adesso chiedo scusa ma purtroppo questa schermata non mi fa vedere adesso posso chiudere ecco praticamente si può tranquillamente invertire la progettazione e poter visualizzarla al navident anche quella della no adesso non mi ha importato l'altra vorrei vedere quella quella questa qui adesso qui in questa schermata non me la fa vedere me la fa vedere comunque immaginate che sia la stessa cosa viene accoppiata esattamente come l'altra e viene poi visualizzata in direttamente accoppiata al file da icon ed è questa praticamente allora in base a questa che è stata già questa protesi non è realizzata a caso ma satisfatti come lì progettata e mania in occlusione corretta viene viene poi utilizzata per la pianificazione ecco questa come lì qui c'è un'importazione come ben registrata questa questa è stata registrata attraverso un accoppiamento un accoppiamento attraverso dei riconoscimenti palatali come voi vedete nel palato quindi è un riconoscimento del modello che viene riconosciuto perché gli stessi punti erano anche fatti e progetti diciamo eseguiti anche sul sul modello con i denti del paziente per cui con i denti del paziente ha potuto accoppiare questo modello quindi il modello della progettazione con i denti del paziente e poi i denti del paziente attraverso le mini viti è stato accoppiato col daicon io non so se sono stato abbastanza chiaro chiaro o se è complicato il punto di base è che ci sono dei reperi che tu in qualche modo vai a trovare le due data ci sono dei reperi appunto precisi che riconosco nel file d'icom eccolo qua e nella nella bocca del paziente nei mini viti a quel punto i due file si accoppiano subito basta schiacciare salva ecco questo per esempio sfruttando questa schermata in queste altre parti posso importare altri file d'icom che vengono visualizzati vicino a questo file d'icom file stl scusate scusate scusa bravo hai ragione sono file stl che posso importare anche di altro tipo nelle altre schermate e poi ovviamente con i punti in comune vengono matchati accoppiati e a quel punto lì si dà l'ok al computer e lui praticamente li visualizza in automatico e ci si può ovviamente come in questo caso sormontare l'uno con l'altro vedere anche la pianificazione in base a quello vecchio in base a quello nuovo quindi direi che diciamo l'obiettivo di progettare la protesi scusate gli impianti in base alla protesi viene perfettamente ottemperato in più attraverso la biconometria si riesce anche a stare all'interno della compagine protesica dei denti e quindi sfruttare la parte biconometrica insomma perfetto grazie anche per questa questa presentazione tecnica sulla gestione dell'istl è fatta reale dal vivo insomma perché siamo collegati al computer direttamente perfetto ci sono altre domande? vedo anche mio figlio qua ciao Tommaso senti qui poi ci sono anche sia Pamela Pignatelli che Leonardo Parcianello che mandano tramite la chat i ringraziamenti i complimenti ciao Pamela ciao ciao bellissima ciao per cui se non ci sono ci sono delle domande da parte di qualcuno non mi pare o sono stato troppo chiaro o a nessuno gli è interessato nulla no comunque gli argomenti erano molto molto interessanti quindi è anche affrontato delle aspettative in modo molto molto chiaro assolutamente grazie per questo ciao Andrea ciao ciao ragazzi complimenti ancora grazie 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 l'ultima l'apa poi gli ultimi dieci minuti li ho seguiti in mobilità mobilità vabbè comunque eventualmente li abbiamo registrati possiamo non mi sono perso niente perché ho visto tutto complimenti ancora grazie grazie bene non mi pare che ci siano domande no Giacobazzo complimenti sono un po' di commento per il chat ciao Marco posso semplicemente chiudere ringraziando te Luca per il tempo per per la bellezza delle immagini dei casi che hai condivido con noi e quindi inviare i colleghi al prossimo evento alla prossima attività che gestiremo insieme va bene certo certo va bene va bene perfetto bene allora grazie a tutti e buona continuazione di serata grazie a voi grazie grazie ancora grazie 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 grazie